E' l'oro nero di Puglia e si colloca in Svizzera tra i prodotti tipici che raccontano la storia, le tradizioni, i piatti più antichi del territorio, grazie allo chef stellato Gerardo Metta e il pizzaiolo protagonista al campionato del mondo pizza senza frontiere di Rimini, Francesco Luisi. I due giovani canosini partiranno per un'esperienza all'estero, portando in valigia la cultura legata alla farina tutta pugliese, in uso nelle vecchie famiglie contadine. Il grano arso è una farina nobile ad oggi perché anche se a volte non abbiamo l'abitudine di mangiarla spesso, intanto è una farina che ha una valorizzazione molto alta, anche a livello di prezzo ci costa il triplo di una farina normale. A livello di valori nutrizionali è una farina molto più leggera della farina classica, quindi lavorandola possiamo creare un prodotto più leggero e molto più digestibile. Alcune ricette sono state presentate nel corso di una degustazione a canosa, che ha visto la partecipazione di imprenditori, istituzioni e associazioni. Un modo per far rivivere la Puglia attraverso il prodotto principe, il grano arso. Un menù composto dall'antipasto al dolce che contiene comunque quello che è la farina proprio di grano arso. Il grano arso è un piatto povero, dobbiamo raccontare proprio le origini del grano arso, quindi parliamo del primo del Quattrocento, dove comunque la Puglia, il tavoliere delle Puglia, è stato il primo a importare il grano. Io non posso essere solo che onorato di questi due ragazzi che comunque così giovani hanno preso a cuore questo progetto, di cui sono contento che una parte del nostro patrimonio va a conoscere una nuova terra, e cioè la Svizzera. Nel corso della giornata è stata conferita una targa allo chef Gerardo Metta, per l'impegno mostrato nella divulgazione della cucina pugliese all'estero. Abbiamo avuto la nascita di un'accademia del grano arso a Canosa. Degli imprenditori hanno dato input a questa accademia, che ha l'intento di formare le nuove generazioni alla produzione e alla lavorazione del grano arso, e nello stesso tempo valorizzare un prodotto principe della nostra cultura, della nostra tradizione.